Noi tutto questo vogliamo renderlo evidente, senza fini di spettacolarizzazione o di ostentazione, ma solo per togliere il velo e strazettamente dimostrare che non c'è davvero nulla di cui avere paura. E noi, signor Presidente, non abbiamo paura. Grazie, è scritta a parlare l'onorevole Pollastrini. Colleghi, abbiate pazienza, levate i cartelli. Vi pregherei, colleghi delle 5 Stelle, vi prego di levare i cartelli senza che io sia obbligato a doverli far levare dai commessi. E' una questione che ha... Presidente Nuti, dopo che ha... Ecco, se adesso ha finito di baciare il collega, se gentilmente fa togliere i cartelli, la ringrazio. Grazie a tutti.